buona visione perdonatemi mi tolgo dal vostro cammino mi dispiace i pazzi sono morti tutti quanti devo ammetterlo non avrei mai pensato di desiderare tanto la morte di qualcuno neanche io Ezio ti ringrazio per aver mantenuto in vita un poco più a lungo questo mio sogno l'onore è mio signore cosa farai adesso figliolo? ci sono ancora altri che devo trovare stanno già piantando i loro artigli nel cuore di Venezia no la bella Venezia allora è lì che deve condurti il tuo viaggio prima che tu parta ho qualcosa per te un dono questa cappa ti identifica come amico dei medici finché l'indossi le guardie saranno più indulgenti nei tuoi confronti bada però essa non ti garantisce l'immunità dalla legge che la fortuna favorisca la tua lama buona vera buona vera vera per vera no oh no vera Che dia... Ehi! Che c'è? Ti ho annoiato, forse? Torna qui! Seguitelo! Più veloce! Più veloce! Diapla! Dove sarà finito? Un vero atleta! Begli stivali! Me li prenderò io! Lo vedo! Laggiù! Donna! Scappando! Ehi, tu! Scendi! Ora! Saranno costose, ma queste meraviglie valgono ben più dello... Leonardo! Leonardo! Mi dispiace, messere, ma è partito. Una nobile famiglia veneziana ha commissionato al maestro dei ritratti. L'hanno finanziato perché trasferisse l'intera bottega a Venezia. È una magnifica occasione. Molte grazie, amico. Grazie. 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 Grazie.